a tu come ti chiami francesca e tu 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e 30 si è pronta? si è pronta? non credo che sia pronta, comunque facciamo finita che è pronta ci è stato o no? un po' meglio ci è stato o no? allora ok quindi adesso il nostro DJ Stauro facciamo un applauso al DJ Stauro che è qua con noi con tanto agli occhialoni ci metterà una bellissima canzone appena Stauro interrompe la canzone io vi dirò un numero e voi vi metterete abbracciati secondo il numero che dico se dico due vi abbracciate in due, se dico tre vi abbracciate in tre, se dico quattro vi abbracciate in cinque, in quattro ok? alzi la mano a chi sa contare fino a uno, alzi la mano a chi sa contare fino a due alzi la mano a chi sa contare fino a 22.460 a chi sa contare fino a due qui si sa contare fino a due ok grazie qui siamo a posto, qui siamo a posto, qui no per 3, 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 un po' che caratterino, un po' prepotentina, un pochino, va bene, va bene, che vuoi fare, che vuoi fare. Samba, una cosa per costanza, e oggi per non c'è chi è Luciana, no c'è una cosa per non c'è chi è Luciana, samba è la prima. Per 2, per 2, per 2, per 2, non c'avevo. il minuto dubbio, allora, loro si sono abbracciate, e lui vince! Eccola qua, eccola qua, la campionista, il campionista, il campionista, allora, un applauso per Katia, Giorgia, un applauso per Giada, e soprattutto un applauso per la vincitrice, come ti chiami? Ginevra, Ginevra, bravissima!